Giorgia Soleri affranta per la scomparsa del padre. Un evento tragico ha colpito la vita della nota influencer e attivista Giorgia Soleri. La scomparsa di suo padre ha destato grande commozione, e l'annuncio è stato effettuato dalla stessa Soleri attraverso una serie di post sui social. Nella sua esposizione, l'influencer ha espresso sentimenti contrastanti, raccontando la complessità del loro rapporto, ma anche come sia riuscita a dirgli delle promesse affettuose prima della sua dipartita. Annuncio della morte. Nel messaggio condiviso su Instagram, Soleri ha dichiarato. Questa mattina presto se n'è andato mio papà, fornendo dettagli su quel triste momento. La giovane ha anche menzionato la presenza di un familiare accanto al padre al momento della scomparsa, rivelando che due giorni prima avevano condiviso un incontro, durante il quale aveva detto, dai, ci vediamo la settimana prossima. A tali parole, suo padre aveva risposto con un certo preavviso, e, speriamo, segnalando una consapevolezza della sua condizione. Giorgia ha espresso sollievo nel comunicare che le ultime parole scambiate tra i due, sono state, ti voglio bene, un'affermazione che rappresentava un punto di risoluzione nel loro complicato legame. Riflessioni sul legame padre-figlia. In un seguito delle storie su Instagram, Soleri ha approfondito il tema del suo rapporto con il padre, descrivendo come, nonostante le difficoltà, avessero dei punti di contatto. Tra gli elementi che li univano, la giovane ha menzionato una canzone che entrambi amavano profondamente, Streets of Love, dei Rolling Stones. In aggiunta, ha riflettuto su come il padre la chiamasse occasionalmente con il nomignolo di Sole, Derived from her surname. Giorgia Soleri, il padre di Giorgia Soleri, la zia di Giorgia.